Molte volte avviene che delle grandi imprese e opere che nel mondo si fecevano... PER MAI? PERCHE LORO, PADRE? PERCHE NON IO? E ti prometto che è tanto equivoca, che mi sono parole che significano più di mille cose. GUILI III FILE Noi cari, che cosa fai? Eh, ecco! Dieci a teatro di qua, seguiti agitati c'è il confianza. Oggi qua, te lo scuola, dopo buono. Via, volte mi faccio. Andai, e palagistrati. Noia, la prospettiva di Stato. Dammi il mio amore. Io me lo dirò. Vi priego di inviare le vostre lettere. Non dico tanto lunghe perché non credendo a darvi troppo lavoro, ma almeno vostro figlio è degno in Cristo. Non dico tanto lunghe. Non c'era nessuno. Per l'allegrezza non mi basta l'animo. sentito il suo sguardo ho sentito gli olori suonare la voce alta che fa morire sguardo no il tuo cartellino sguardo sguardo si Il Signore del Signore Molto sintomi non esclare Molto di terra Grazie